Man Group sono più di vent'anni che opera in Italia gestendo con oneri e onori i risparmi degli italiani, principalmente focalizzandosi sul segmento del private banking. Negli anni abbiamo voluto la nostra offerta per andare incontro alle sempre più mutevoli necessità regolamentari, ma allo stesso tempo abbiamo continuato ad aumentare la nostra prossimità con gli investitori italiani. Vista la natura specifica di quello che noi facciamo è importante essere chiari, essere presenti e essere vicini ai nostri investitori per spiegare in maniera chiara quello che cerchiamo di ottenere per i loro risparmi. All'interno del segmento in cui operiamo l'industria è spesso stata tacciata di poca trasparenza, poco rispetto degli investitori, costi molto elevati. Queste sono tutte cose che noi col tempo vogliamo chiarire e che con la nostra evoluzione negli ultimi anni penso siano stati più che risolti. Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione sono il mantra di Man Group, sono la base di tutto ciò che facciamo e sono anche alla base del nostro sviluppo prodotti, che non va a guardare i temi, i trend, cose di moda necessariamente o ciò che la domanda vuole. Il nostro sviluppo di prodotti si basa o su chiare opportunità di mercato che possono emergere a dislocazioni, ma allo stesso tempo si basa su duro lavoro di ricerca, dedizione a un rigoroso approccio agli investimenti e al risk management. È da qui che viene il nostro mantra Innovating to Perform. L'innovazione si basa su cosa? Sul fatto di continuare a cercare cose di frontiera, cose innovative, strumenti di investimento che non siano necessariamente in linea con quello che fanno la maggior parte degli operatori. Questo noi pensiamo e ne abbiamo avuto evidenza negli ultimi anni, siano degli elementi di grandissimo valore, di grandissima diversificazione per i portafogli dei clienti private. Perché aiutano nei momenti difficili, come quelli di quest'anno, da un lato a contenere le perdite, dall'altro eventualmente a generare addirittura dei profetti che riescono quindi a compensare parte dei momenti difficili dei portafogli più tradizionali.